Ciao, sono Matteo Pozzobon e sono il disegnatore luci di Strighe Maledette. La mia idea di luce di questo spettacolo di Strighe Maledette è nata pian piano. Ho costruito le scene insieme a Roberto Maria Macchi e iniziavo già a pensare a come poter sfruttare questa tipologia di scena. Ho visto le due filate qui in magazzino e nel mentre che filavano le ragazze ho iniziato ad avere delle immagini di scene. Questo mi ha dato la possibilità di iniziare a pensare a dove posizionare le varie luci a terra, di fianco, di contro, frontali, che mi ha dato quindi il piano luci che ho messo in pratica in teatro. Da lì è iniziata la creazione vera e propria. A Strighe ovviamente si presuppone che si giochi molto sulla luce e sulle ombre e in effetti così è stato. Ovviamente quando si vanno a fare delle prove non si sa mai dove si va a finire. Quindi mi sono molto buttato, ho testato il mio impianto, l'ho sfruttato il più possibile, non avendo paura neanche di diosare perché quando si arrestisce uno spettacolo l'importante, almeno per me, è non aver paura di provarci perché gli errori ci saranno sempre, però un po' alla volta lo spettacolo si costruisce. Quindi ho voluto anche divertirmi e secondo me nello spettacolo ci si accorge di questo.